Avete mai sognato di avere una locanda in un villaggio medievale fantasy? Se sì, questo è il gioco perfetto per voi! Ehi ragazzi, come va? Io sono FieriNiki! E io sono Stef, e questo giochiamo a Potion Punch! Ovvero un altro giochino per cellulare che abbiamo trovato e che alcuni di voi ci hanno consigliato in cui dovremo fare delle strane e magiche pozioni per i nostri clienti! Potion Simulator lo chiameremo giusto per farvi capire facilmente che cos'è! Allora, stiamo iniziando in questo momento, c'è un ognometto che ci parla, ti lascio l'onore di leggere! Che bello, mi piace leggere! Accidenti, mi sono trasformato in un ognomo, non posso gestire un'attività commerciale in queste condizioni! Dammi una mano! Ma che bella voce che hai! Grazie, sto cercando di simulare un ognomo! Diamo una mano all'ognomo! Siamo noi? O è un cliente? No, che sei un cliente! Questo giovane scudiero ha bisogno di una pozione rossa, ti spiegherò in breve come crearne una! Una pozione rossa, quindi una pozione della vita nei giochi classici di roleplaying! Trascino una tazza vuota nel distributore rosso per riempirla con essenza di potenza! Bello, bello, bello! Vabbè, è semplice, quindi dobbiamo fare sicuramente questa rossa! Ok! Attendi che la tazza si riempia! Non c'è molto da spiegare, ne ho metto, dai! La tazza è piena, trascino una bottiglia vuota dello scudio e dopo creare una pozione rossa minore, sito interrotto! Trascino questo qui! E gliela versiamo! Ma che carino come gliela versi! E ci ha lasciato i soldi! E soldi! Opla! Oh, non dimentichiamoci di prenderli! Ok, le vuole una pozione gialla, sì, ma non c'è bisogno che ci spieghi, se tutto... Dobbiamo combinare, credo, rosso e giallo per fare l'arancione! Io sono scarsissimo a combinare i colori! No, sicuramente sì, sì! Quindi si fa interessante! Allora, innanzitutto mettiamo un po' di rosso! Perfetto, perfetto! Diventa arancione! Dopodiché la mettiamo nel bicchiere e lui è felicissimo e ci dà i suoi soldi, giusto? Assolutamente sì! Perfetto! Riccardo, non puoi miscelare senza già presenti nella bottiglia del cliente! Ok, grazie! Servi i clienti fino alla fine del giorno in bocca al lupo! Ce la possiamo fare! Vai! Ce la possiamo fare, dai, è stata abbastanza semplice! Salve, bel cavaliere! Gialla! Assolutamente! Prendi i soldi e non te lo dimenticare! Blu! Non mi dimentico nulla io! È veloce, bisogna fare tutto in fretta! Allora, io ti dico gli ordini! Un'altra blu! Grazie, sei utilissima! Prendi i soldi! Ma non posso fare più di una tazza alla volta, vero? Non lo so, questo non ce l'ha spiegato! Allora, serviti 11! Venduti 11! Sprecati 0! Mancati 0! Bravissimi! Siamo bravissimi! 180 e 11 di mancia, quindi abbiamo guadagnato 191 al primo giorno! Benissimo, benissimo! Villaggio di buonaventura, bellino come posto! Comunque credo che noi creiamo le pozioni in un villaggio fantasy, giusto? Certo! Una roba del genere! Sì, sì, sì! Quindi per tutti i cavalieri, quelli che combattono! Ammoderniamo il nostro negozio! Tocca qui per visualizzare gli ammoderni! Bellissima come parola, però! Vai! Quindi possiamo migliorare il nostro negozio! Anche migliorare il nostro negozio! Ah, vedi, la prima cosa che ti avevo chiesto, ma non abbiamo più tazze! Credo che in questo momento ne stiamo per acquistare, quindi... Ok! Opla! Ecco, 500 monete, vai avanti e acquista un'altra tazza di miscelazione! Perfetto! Così ne possiamo fare anche contemporaneamente! Sta diventando molto, ho capito? Però, il giorno successivo! Certo che proviamo il giorno successivo! Ma questo è la nostra... Ah no, questo è il villaggio, che pensavo sia la nostra locanda bellissimo! Obiettivi livello! Guadagna 3000 monete! Servi 300 clienti! Vinci 100 emblemi bonus! Acquista tutti gli ammordenamenti! Ammoderni! Completa 50! Vabbè, questo lo dobbiamo fare in tanti giorni, certo! Non è un obiettivo, diciamo, da fare subito! Hashtag ammordenamento! Ammodernamento! Io scommetto che nessuno lo scriverà giusto, perché non riesco neanche a ricordarmelo pure io! Esattamente! Ok, ci siamo! Ecco la seconda tazza! Attendi che venga cotto in modo uniforme, no! Dobbiamo anche cuocere, quindi non solo pozioni! Ma stiamo facendo un gecko! Ma che schifo! Ok, cottura terminata, prendi il gecko! Vedi che è il gecko! E le lo diamo! Almeno un piattino! In questo villaggetto hanno gusti un po' strani, non trovi? Vai, io non giudico, sinceramente! Preferisco non giudicare niente di nessuno! Ma qua ne metto uno già a cuocere! No? Ok, vabbè, magari se qualcuno poi te lo chiede... Guarda come sono multitasking! Bravissimo! Vero? Bravissimo, sei super veloce! Grazie! Guarda, guarda, guarda! Opla! Questo lo sto bruciando, non posso appoggiarlo? È stata una pessima idea, inizio a fare un altro! Anche secondo me, te l'ho detto! Perché poi magari finisce che lo bruciamo! Qualcuno che lo vuole! Ehi, te lo do lo stesso! È un po' bruciachiatto! Un gecko in omaggio! Un incantatore vuole potenziare questo negozio e raddoppiare i tuoi guadagni per tre giorni! Usiamo una gemina! Non ne abbiamo! E allora se c'è la facciamo? Pubblicità! Ci guardiamo una bella pubblicità! Ma possiamo fare tantissime cose! Qua possiamo potenziare ogni singola pozione, ogni singolo distributore, con tantissime caratteristiche, ad esempio quanto dura, quanto ci paga, quanto ne abbiamo di capacità, insomma un sacco di cose! No, ma è super figo sto gioco! Invece qua abbiamo, cosa sono queste cose? Estendi gli orari di apertura del negozio! E infatti la pazienza dei clienti! La pazienza dei clienti! Le mance! Le mance! Ma ci sono un sacco di cose! Allora, le mance ce le potenziamo, a noi piacciono le mance! Eh sì, a voglia, a voglia, a voglia! Poi attira più clienti, sì, sinceramente ne avevamo un po' pochi, quindi ce ne attiriamo... Stiamo facendo tutte cose per guadagnare più soldi, facci caso! No, per lavorare meglio! No, per guadagnare più soldi, così diventiamo ricchi! Andiamo! E saremo i migliori del villaggio di Buonaventura, no? Esatto! Giorno 3, partiamo! Vai! Ok, ok! Chissà se abbiamo qualcosa di nuovo in più da fare anche oggi! Magari qualche altro insetto strano, animale strano da cucinare! Spero più una nuova pozione! Anche perché i gechi, cioè un po' schifo! Vediamo! Che cosa sono? Li vedi in basso? Uh! Miscelatori serpente! Usali per decorare le pozzine? No, vabbè! Come quando nei drink metti, capito, la frutta, le cosettine per girare! Oh, che bello! Hashtag giocodella vita! No, ma l'abbiamo già lanciato l'hashtag a modernamenti, stanno ancora cercando di capire come si scrive a modernamento, capito? Sì, esatto! Allora, buongiorno, trascina miscelatore da qui! Ah, ok, lo mettiamo subito nel bicchiere! Quindi prima della pozione... Ah, ma hai fatto bene a ricaricarli, li hai visti che sono vuoti il giorno dopo? Sì, ok, quindi non li abbiamo strecati! Perfetto, perfetto, perfetto! Ah, ma è proprio un serp... Mamma mia, ma io non lo vorrei mai! Hai un serpente nel bicchiere, sinceramente! Vabbè, i pro di cavalieri non hanno paura di nulla, allora i serpenti li usano come stuzzicadenti, capito? Quindi non puoi capire... Se lo dici tu... Oh, un bell'arciere, che bello! Tocca per riempire, devo fare duemila cose insieme, qua mi servi super concentrata, super sul pezzo... Sì, 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 allora, arancione! Perché abbiamo aumentato i clienti che arrivano e sinceramente sono già in crisi! Eh, ho notato, forse non è stata una buona idea! Tenga, grazie! No, 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 è sempre... Quando si può guadagnare di più è sempre una buona idea! Abbiamo diventato i migliori del villaggio! Giallo? Esatto! Che io che voglio un bello modernamento! Smetti, dai! E penso a fare le pozioni concentrati! Comunque nessuno ci sta chiedendo i nostri nuovi serpentelli! Perché... C'è una nuova... Eccola, eccola, eccola! Te l'ho detto! Io non lo vorrei, quindi capisco perché non lo chiedono! Sì, ma è la novità della locanda, è giusto che lo provi nei nostri clienti, dai! Sì, 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 sì! Certo, certo, certo! Tenga, guarda che bello! Ho apprendito qualcosa di bello da mostrarti! Oh, sono così eccitato! Ti basterà toccare qui! Ospiti speciali? E chi sono gli ospiti speciali? Tadà! Questo è l'albore d'onore! L'albo d'onore! Faccio, faccio! Tutti gli ospiti speciali che frequentano il nostro negozio avranno il loro ritratto appeso alla parete! Ma scusa, dove è il mio ritratto? Scusate, io non lo vedo tra questi! E' più avanti perché sei più importante! Ah, ecco, ecco perché! Tranquilla, tranquilla! Questi ospiti speciali pagano più dei normali clienti, quindi dobbiamo farli entrare a tutti i costi! Vieni, Glenn! Invitiamo un ospite speciale qui! Stiamo invitando Glenn? Ok! Io 5.000, non ce li ho per invitarlo! Ah, ok! Mi sa che ce lo sta dando lui! Grazie, mi ho metto! Meno male che ci sei tu! Meno male l'abbiamo capito! Senza di te non sapremo cosa fare! Urrà! Chester ha accettato! Ok, fantastico! Chester ha accettato l'invito e ha promesso di visitare il nostro negozio ad ora in avanti! Ok, grazie Chester, sei molto gentile! Appendiamo il rilasso di Chester sull'albo d'onore, ma io lo voglio vedere però, dov'è? Ecco! Puoi invitare di nuovo lo stesso ospite per aumentare il suo livello di fedeltà! È carina questa cosa! Perché in effetti se ci pensi le locande hanno i clienti speciali che vanno sempre! Ah no, poi i clienti fidati! Esatto! Quindi si fanno un nome anche grazie alla famosità! Come si dice dei clienti? Alla fama! Alla fama! Guarda che bella armatura gelata che ha Chester! Sì, ne la rubo! Più alti livelli di fedeltà, maggiore sarà il prezzo pagato dall'ospite per le nostre pozioni! Puoi inoltre invitare ospiti speciali inviando loro direttamente un costo di pubblicità! È più caro, ovviamente! Ok, ok, abbiamo capito! Ok, ok, va bene! Grazie Gnometto, è stato molto gentile a spiegarci tutto! Qualcosa di nuovo anche oggi? Oltre a cliente fidato, super figo? Non è una più pallida! Concentrata! Appena arriva Chester urla! Ok! Allora, mettiamo subito uno di questi a fare e iniziamo subito a fare una pozione arancione! Non è che sono proprio felice, devo essere sincera! Sono le più faticose le arancioni, perché devi miscelare due! Infatti spero che non arrivino mai anche gli altri colori miscelati, perché altrimenti sono guai! Lei cosa vuole? Ok, pozione blu le la facciamo immediatamente! Ci prendiamo anche questi bei soldi! Serviamo a lei! Guarda quanto sono bravo oggi! Opla, opla, opla! Oggi sì, oggi sì, sei bravissimo! Poi, questo Tenga era pronto già subito per lei? Oh, un altro! Aspetta, bisogna aspettare però che sia cotto, non lo possiamo dare crudo! Oh, è una giornata importante! Gli hanno già chiesto due, vuol dire che stiamo migliorando in cucina! Forse sì, esatto, si sta capito! Spargendo la voce che noi siamo bravi cucinatori DJ! Tenga, vada! Quindi va benissimo! Stiamo in crisi! Ok! Perché dobbiamo aspettare la ricarica e sta finendo! Guarda, il cliente è un pochettino arrabbiato, l'hai visto? No! Dannazione! Ti prego, veloce! Veloce! Guardalo come arrabbiato, Tenga! Scusi! Era quasi il nostro primo cliente insoddisfatto, non ci ha lasciato la mancia, però si tirchio, eh! E l'ha fatto bene, l'abbiamo fatto aspettare un sacco! Ma c'è Esther quando arriva? Eh, me lo sto chiedendo anch'io, mi sto iniziando ad offendere! Vero, io sto pensando solo a lui! E lui sta facendo ritardo, capito? È un po' maleducazione, capito? Allora, ta, 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 fammi concentrare che la fine... Io sto dicendo cose molto serie! Sì, non è venuto! Non è venuto? Non è venuto! Guarda, c'era il... come si chiama? Aspetta, forse, se il gioco ha senso, devi dargli il tempo di arrivare, perché tu gli mandi il dito, lui lo legge, metti che arriva da un paese lontano... Arriva con la carovana... Eh, esatto, devi dargli il tempo di arrivare... Eh, noi aspettiamo... Non è che ti ha detto vengo domani, ti ha detto verrò a venire... Aspettiamo a Esther con tanta ansia, non vediamo loro a rivederlo... Sì, perché alla fine non sai neanche quando arriverà, ti mette proprio un'ansia incredibile! Chester! Ehi! Duemila monete! Ah, che bello! Voglio prendere... Ma ma c'è un sacco di gioco, anche il miscelatore serpente... Cos'è il mobile? Si espande il nostro bancone? Ottieni mangi più alte dei clienti, fai attendere i clienti più a lungo e riduci tempo di cottura, molto belli, però io voglio questa! Sì, 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 sì! Vero? Siamo d'accordo? No, se lo stiamo... Poi pensavo di potenziarci un po' questa rossa... Allora, il prezzo è 1800... No, aspetta, aumenta il prezzo di vendita, 550... Altrimenti... Durata di riempimento 220 ce lo paghiamo e anche il prezzo... Ok, perfetto, almeno la rossa vale di più e ci facciamo... Ci siamo potenziati tantissimo... Oh, che ci stava dicendo? Di farla verde... Ah, vabbè, dai, è semplice, è semplice, è semplice... Eh, insomma, perché adesso abbiamo viola, arancione, verde, rosso, giallo, blu... Cioè, non abbiamo bisogno di consigli per la miscela, dai, sì... No, io stavo cercando di mettere il rosso col giallo... No, quella è viola, ovviamente giallo e blu, è vero... Ok... Lasciami in pace... Ecco! Eh, ma... Disgraziati... Oh, quando lo metti non lo chiedono mai... Esatto... Se l'ha fatto apposta... Viola! Allora, viola è col rosso? Eh, sì... Ok... Non ci sta capendo più nulla... No, mi devi dare una mano con i colori, io ti ho... No, togli il bicchiere! Togligli il bicchiere! Ok... Scusi, signorino, ho sbagliato, non volevo... Pa, 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 tenga, signorina, adesso deve aspettare un attimino per quello giallo... Per il giallo! Opla, poi questo lo rimettiamo a fare un serpentino e uno rosso... Riempili, riempili! Sono tornato... Oh, grazie... Eh... Non sto più capendo... Allora, rosso ha quello da serpentino... Ok... Dai un geco a quella con i capelli blu... Ok... È giallo anche a lei... Mamma mia, è impossibile... È troppo divertente però... Opla, opla... Giallo... Poi mi hai detto che volevi viola, si fa col rosso? Eh, col rosso... No, ho sparato a caso... Sì, sì... Ma no, non ci sto più capendo nulla, aiuto... Mi devi dare una mano con i colori... Blu più giallo... Verde, blu e giallo... Ok... Allora, lo so come si miscelano i colori accidenti... Non posso diventare una che non sa nulla, ok? Lo so... Non devi panicare insieme a me se panico... Perché è certo che è panico, è tutto troppo vero... C'è tutto troppo, pa, pa, pa... Però è bellissimo... Ce l'abbiamo fatta... Abbiamo fatta... Quanti soldi? 400 in una sola giornata... E mica male, mica male... Questo grazie soprattutto alle pozioni rosse... Che hanno aumentato il valore di quello che guadagniamo... Quindi... Questi potenziamenti sono stati davvero utili... Abbiamo sprecato soltanto una pozione... Abbiamo servito 12 persone... Mancati zero... Non abbiamo mai mancato un cliente... Questo è ottimo... In nove giorni di lavoro... Per la reputazione della nostra locanda è ottimo... Esatto... La locanda Steffi e Feri e Niki... Non sbaglia mai... Direi di fermarci così per questo video... Speriamo che vi sia piaciuto... Fateci sapere lasciando tanti likes... Commentando quindi... Decideremo in base un pochettino a views... Likes, commenti... Se facciamo anche il sondaggio... Proprio mettiamo tutto al possibile... Tutto! Vediamo se fare altri episodi... A me piacerebbe perché... Io spero di sì... È davvero divertente... È più divertente del previsto... Quindi l'ho apprezzato davvero tantissimo... Speriamo che vi sia piaciuto... E ci fermiamo così... Bene che se vi piace così... Se ci lasciateci un bel like... Questa è la prima volta che vedete il nostro video... Potete considerare l'idea di iscrivervi... Per non perdervi gli altri episodi... Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!